Emergenza scuola, diplomi falsi e mobbing al Comune. Stamane conferenza stampa di Carlo Sibile sull'emergenza Avellino. Striscia la notizia prima e le Iene poi hanno infatti acceso i riflettori sulla nostra città. Il deputato del Movimento 5 Stelle punta il dito contro l'amministrazione comunale e annuncia una serie di iniziative per sensibilizzare anche il Parlamento nazionale sui casi dal giorni al centro dell'attenzione sull'emergenza. Sicurezza Sibile ha chiede di poter accedere ai documenti relativi allo stato di agibilità, antisismico e antingendio dell'edilizia pubblica in città. Ci chiediamo se l'amministrazione non abbia segretamente firmato un contratto con Mediaset perché siamo su tutte le trasmissioni di denuncia, striscia la notizia, le Iene che si interessano dei casi della città, siamo diventati lo zimbello della nazione. Però noi dobbiamo affrontare queste problematiche in maniera seria dimenticandoci di questi partiti che oggi vengono sconfitti a 360 gradi e bisogna ora partire con un'azione di risanamento morale della città. Noi presenteremo un esposto alla procura perché denunciamo questo sistema che c'è sotto allo scandalo delle mazzette al sindacato e poi vogliamo vederci chiaro sull'edilizia scolastica perché non è possibile che siamo a anno scolastico iniziato e dobbiamo oggi venire a sapere che abbiamo problemi di agibilità nelle scuole irpine. Al suo fianco anche Luigi Gallo, parlamentare del Movimento 5 Stelle che rilancia l'emergenza personale nelle scuole. Non ci possiamo permettere in questo paese dei malfunzionamenti quando mancano 18.000 persone al comparto dell'amministrazione, dei collaboratori scolastici. Ricordiamo che sono arrivati i tagli del centro-destra nel precedente governo e questo governo, il governo Renzi del Partito Democratico, ha tagliato 2.000 persone nel personale ATA. Oggi in legge di stabilità non c'è un euro per assumere il personale che manca. Grazie a tutti.